Ciao a tutti i video amatori e a tutte le video amatrici di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questo nuovo video. Servitevi un tè, un caffè, una tisana, allacciate bene le cinture di sicurezza alla vostra poltrona preferita perché oggi parliamo dei media, parliamo della informazione. Informazione, dare forma alla nostra mente, la nostra mente ragiona, si nutre, vive di informazioni e come spesso succede nella nostra società tutto è business, tutto è facilmente riconducibile al denaro ma oramai il comportamento dei media e quando dico media intendo giornali, televisioni, radio, giornali online, testate online, canali youtube, influencer, tutto ciò si sta trasformando in un traffico di informazioni e i media sono i trafficanti, veri e propri trafficanti di informazioni. Si comporta come si comporterebbe un mafioso, uno spacciatore, utilizzando tutti i metodi possibili e immaginabili. Se non lo sai ti stai trovando in un canale che si occupa da svariati anni di deprogrammazione, cioè cerchiamo insieme di smontare la programmazione neurolinguistica collegata al significato delle parole, a quello che noi visualizziamo quando leggiamo certe informazioni, soprattutto certe parole, che la programmazione dominante vorrebbe farci credere. Siamo arrivati al punto in cui lo scambio di informazioni avviene per avere un'altra informazione, si scambiano informazioni, una copertura per un'altra copertura, uno scoop per il silenzio di qualche d'uno, un'operazione di pulizia dell'immagine in cambio di uno scoop, una minaccia, un ricatto in cambio di una fake news. Non ti vaccini, ti ammali, muori, oppure fai morire. Le informazioni oramai sono diventate regolamentazione di conti. Si regolano i conti tramite scandali, denunce, minacce, pilotate come nella mafia, giudici pilotati come nella mafia. I meccanismi di fabbricazione delle notizie sono oramai un business paragonabile ad una economia perfettamente controllata che trucca i mercati, che plasma le borse, che influenza il valore delle azioni, dell'oro, delle principali ditte quotate in borsa, che fa cadere o eleggere governi, scandali che escono con un timing, con una tempistica perfetta, pochi giorni prima delle elezioni, pochi giorni dopo le elezioni, che modificano la percezione pubblica e quindi anche quella dei politici stessi, prima di fare alleanze, dopo che si sono fatte alleanze. Personaggi pubblici scomodi che vengono attaccati a intermittenza, solo ed esclusivamente quando fanno comodo al potere, diventano degli angeli, delle colombe, che si trasformano in falchi, quando invece decidono di non allinearsi alle decisioni dominanti, all'agenda dominante. Pensate a quello che succede, ad esempio, alle ditte di Elon Musk quando viene attaccato dalla Commissione Europea, dal governo americano, o quel che succede alle sue ditte, invece quando vince una causa contro la Commissione Europea o contro il governo americano. Pensate alle quotazioni di Microsoft a quelle di Apple e chiedetevi che ruolo hanno i media come controllori delle notizie. Pensate alla società autostrade, alle sue quotazioni in borsa, pensate alla regolamentazione e ai monopoli che gestiscono l'energia, miliardari che comprano e piazzano i propri tecnici, i propri economisti, nei ruoli fondamentali, personaggi che sono in contatto diretto e quotidiano con i padroni che tirano i fili, direttori, CDA. Pensate a tutto il ruolo delle porte girevoli, quelle che permettono a un qualsiasi primo ministro uscente di diventare il direttore della Banca Centrale Europea. O l'inverso, pensate ai direttori delle più grandi lobby farmacologiche che diventano ministri della sanità. Ogni volta che vi è un problema che riguarda i padroni, coloro che tirano i fili, ogni volta che vi è un problema l'ordine cala dall'alto. Si mettono sotto pressione direttori, vice direttori, addetti stampa, fino all'ultimo dei giornalisti per rimediare agli errori fatti, per cambiare la percezione della realtà. Così un esercito di consumatori compulsivi di news, tossici in crisi di astinenza da nuove notizie, seguono la narrazione a ondate, pronti a farsi l'ultima dose di informazione guidata e pilotata. Non scegliere cosa date da mangiare al vostro cervello equivale ad essere animali di allevamento. Sono loro infatti gli unici che non scelgono di cosa cibarsi. Becchime preconfezionato che non nutre ma serve a farli ingrassare, a soddisfare i loro sensi e a renderli immobili dentro le loro gabbie, per essere poi portati al macello da chi questo becchime glielo sversa quotidianamente. Narcotizzati e ipnotizzati dalle notizie che vogliono sentirsi dire. Sono portati al macello dai loro stessi informatori, al punto che se non fate parte della narrazione, se non seguite l'ordine prestabilito, il pensiero unico, la propaganda industriale, farmaceutica, militare, tutto ciò che non è parte integrante di questi messaggi, non esiste. Se non lo dice la tv non è mai successo. La copertura, l'insabbiamento delle notizie, gli scoop usati come arma di distrazione di massa o di distruzione di massa, il ricatto morale usato per indirizzare il popolo verso una decisione, verso un imbuto psicologico, che ha come unica via di uscita comprare qualche cosa, pensare in un modo determinato, regolamentazione di conti tra grandi lobby del mercato, tra gruppi di potere. L'amministrazione americana per questo è l'esempio più lampante. Due facce di due diverse monete che però rientrano dentro lo stesso jukebox e suonano la stessa musica. Fabbriche di notizie che hanno fatturati come le più grandi lobby del pianeta. Fake news che regolano gli indici della borsa. Scandali che fanno cadere governi che distruggono uomini politici e ne costruiscono altri. I media sono trafficanti di informazioni. Pollice in su, condividi questo video e abbonati al canale.